ciao a tutti amici frallini, vi voglio far vedere un po' come funziona questa macchina allora questo si chiama food processor, praticamente è per tritare, io ho già tritato facilissimo da smontare, montare, sembrava più complicato invece proprio un gioco da ragazzi dopodiché praticamente per la cottura dobbiamo fare questo io ho messo, intanto vedete, questa è la spatola gommata che serve apposta per cuocere dobbiamo mettere questo supportino qua che è in dotazione, altrimenti non cuoce è una sicurezza diciamo, allora quindi mettiamo il supportino, vedete è facilissimo da mettere inseriamo la frusta gommata che serve apposta per le cotture, ok? chiudiamo, la cosa importante è mettere i gradi, io metterò 100 perché praticamente per il soffritto è perfetta la mia temperatura azioniamo uno in senso anti-orario che praticamente girerà sempre la spatolina e dopodiché abbiamo il display che ti dirà sia il tempo che passa, se ti interessa, a seconda dei minuti sia la temperatura, quando raggiungerà la temperatura, il cigolino alcune volte è normale quando raggiungerà la temperatura inizierà a soffriggere, da lì poi potete procedere con la cottura delle vostre petanze lascerete tutto qua perché fa tutto lui, il nostro Ken, ok? vedete che adesso sta andando intanto vi mando un bacione grande a tutti e alle prossime ricette, mua, ciao! ciao!